La stagione estiva è il periodo perfetto per stare insieme e creare dei ricordi indimenticabili e qui a Riccione c'è l'hotel Corallo che ci pensa a creare per i suoi ospiti ricordi da non dimenticare anzi da mettere in un cassetto e da tenere sempre ben vivi. Finalmente anche il tempo si è messo di buona lena, il sole e quindi è tutto prontissimo per accogliere al meglio i nostri ospiti. Un'estate che parte con delle novità. Iniziamo elencando quello che ci sarà per i vostri ospiti durante la stagione estiva. Certamente abbiamo pensato quest'anno di fare più serate dedicate ai nostri ospiti, una per ogni mese e cominciamo con giugno una festa diciamo di inizio estate ufficiale anche se siamo qui in pieno fermento e con una serata fluo del nostro carissimo amico Maurino, del DJ Maurino. Poi faremo invece una festa del buon compleanno Corallo a luglio, il 28 di luglio con una sfilata di bellissime ragazze Miss Grand Prix e poi per la serata clou del 14 di agosto con un tributo a Sting e i Police con l'orchestra Rossini di Pesaro. Quindi un galà eccezionale con grandissimi artisti e siamo molto felici della scelta che abbiamo fatto. Un'estate diciamo all'insegna della qualità, alla cultura, alla buona musica e al divertimento che non può mai mancare ovviamente per gli ospiti. Non deve mai mancare nulla, innanzitutto l'accoglienza, l'ospitalità, il ritrovare tanti amici, la buona cucina, l'apertura del ristorantino Fior di Sale anche per gli ospiti esterni e già oggi è una così apertura ufficiale con un aperitivo per tutti coloro che passano sul lungomare di Riccione e quello lì mai mancare niente. Oltretutto e poi le serate dedicate, continua la grigliata sullo Roof Garden di pesce del mercoledì, la serata francese, il Giro d'Italia con i migliori piatti delle regioni italiane, lo spettacolo per i bambini con il Mago Larry che tutti i giovedì li fa divertire in piscina, quindi assolutamente squadra che vince non si cambia, si dice così. Noi continuiamo, abbiamo aggiunto solo qualche altra cosa in più per aliettare i nostri ospiti. Squadra alla quale non manca l'inventiva, la creatività e soprattutto il buon gusto. Parliamo di questo aperitivo, questa apertura di stagione tra virgolette un po' informale con il DJ set, bella musica e soprattutto cibo di qualità. Pesce freschissimo, cruditace, da accontentare qualsiasi palato e volevamo insomma dare una buona estate a tutti quanti nel modo migliore possibile. Questo non è solo per i nostri ospiti ma per tutti coloro che vogliono venire a trovarci e ci rende veramente felici. Buona estate a tutti, buon lavoro a voi e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a voi sempre della vostra amicizia che ci regalate ma soprattutto aspettiamo i nostri graditi, graditissimi ospiti con il cavallo di battaglia di sempre. Siamo qui ad abbracciarvi, il corallo è la vostra casa al mare.